Oggi un nuovo incontro in via della Pisana a Roma, nel Palazzo della Regione Lazio, per la vertenza biomedica Foscama. L'azienda del settore chimico-farmaceutico di Ferentino è in difficoltà. Una situazione grave per i lavoratori rimassi senza prospettive e senza retribuzione. L'obiettivo della CISL è quello di ottenere un ammortizzatore sociale per dare delle risposte concrete in tempi rabidi al personale. Auspica che società con un piano industriale serio manifestino interesse per rilanciare lo stabilimento assorbendo personale. Il settore farmaceutico è in continua evoluzione e ciò richiede standard qualitativi altissimi e continui investimenti. Negli ultimi anni qualcosa è andato storto perché la biomedica ha iniziato a sentire pesanti colpi di crisi. Lo scorso settembre la lettera di disdetta con la notizia del fallimento dell'azienda. Sono 98 le famiglie dei lavoratori che non possono più contare su questo stipendio. Gli agenti di commercio sono avviliti, molti di loro avrebbero chiesto prestiti e cercato altri lavori. Alcuni si sarebbero fatti aiutare dalle proprie famiglie per poter vivere. Molti di loro hanno un'età compresa tra i 55 e i 60 anni. Oggi un nuovo incontro in regione per tornare a sperare.